Ciao a tutti, oggi parliamo dell'importanza della visita di prevenzione nel paziente geriatrico soprattutto, in quanto questo consente sia di prevenire determinate problematiche direttamente correlate all'età, sia di effettuare delle diagnosi precoci con tempestivo intervento terapeutico e quindi una maggiore probabilità di risoluzione della patologia stessa. Nel cane geriatrico è importante il controllo almeno semestrale, quindi almeno un paio di volte all'anno deve essere portato con regolarità, anche in assenza di segni clinici evidenti a parere del proprietario direttamente riconducibili a una situazione di tipo patologico. Lui è Watson, è un boxer di 10 anni e mezzo di età, quindi è sicuramente un paziente da considerare geriatrico, venuto alla visita di controllo per un'attenta valutazione non solo di anomalie evidenti, quali possono essere alterazioni del suo sistema cardiocircolatorio, ma anche per situazioni che riducono notevolmente la qualità di vita dei nostri animali negli ultimi anni, quali una corretta valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico. È importante ricordarsi che gli animali, soprattutto loro di grossa taglia, sono soggetti a fenomeni artrosici che si accompagnano quindi a fenomeni algici, quindi di dolorabilità, che se non opportunamente corretti non solo riducono la qualità di vita del nostro animale, ma riducono anche l'interazione, in quanto il cane ha meno voglia di giocare, di passeggiare e di interagire con il proprietario. Non dimentichiamoci che l'aspettativa dei nostri animali è sicuramente aumentata rispetto a qualche anno fa, quindi alcune patologie che prima non venivano diagnosticate sono adesso più frequentemente non solo diagnosticate, ma necessitano di terapie che, se effettuate al momento opportuno, sicuramente permettono all'animale di trascorrere altri anni insieme a noi. Mi raccomando, nonostante la visita di controllo debba essere fatta con una cadenza semestrale o anche più frequente se necessario, è importantissima la collaborazione attiva del proprietario nella gestione della salute dei nostri animali. Qualsiasi neoformazione che possiamo tranquillamente avvertire semplicemente accarezzando il nostro animale o anche da volte delle alopece ai nostri occhi e agli occhi del proprietario banali perché non riconducibili a lesioni da grattamento o a rossamenti cutanei sottostanti, possono nascondere delle patologie endocrine sottostanti che se non diagnosticate in tempo accorcerebbero di molto la vita dei nostri animali. Detto questo, io Francesca e Watson vi salutiamo e ci rivediamo la prossima volta per il prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti!